Emanuele Birarelli, capitano azzurro, oggi contro il Giappone MVP della partita, domani guiderai i suoi all'assalto del Brasile. Sì, è stata una bella partita, innanzitutto abbiamo fatto quello che dovevamo, cioè vincere contro una squadra contro cui dovevamo vincere, sicuramente siamo più forti e l'abbiamo fatto vincendo una bella partita, giocando una bella pallavolo direi, molto solida in cambio palla, sfruttando il fatto che loro in battuta non sono stato sferico secondo me e poi invece abbiamo invitato i loro attaccanti prendendo tanti muri, quindi direi che abbiamo fatto la nostra partita. Domani insomma c'è il Brasile, siamo molto contenti ancora di essere in corsa anche per tutti gli obiettivi, insomma dal primo posto in giù e penso che sia una partita che ci dobbiamo godere, che dobbiamo essere contenti di giocare, non vuol dire non avere pressione o non avere niente da perdere perché abbiamo da perdere, abbiamo già da vincere, da giocare una partita per vincere comunque, però direi che dobbiamo essere al nostro agio in campo e poi non dobbiamo farci mettere troppa pressione dalle cose che sicuramente loro faranno bene, ma noi abbiamo i nostri punti di forza e dobbiamo pensare insomma al nostro gioco.